Martedì 2 ottobre alle 20.45, dopo la presentazione Energie Sostenibili a cura di AEVB, avrà inizio la proiezione dei documentari in concorso. Il puma è uno dei più affascinanti e allo stesso tempo più schivi animali della Patagonia. Anche se il puma è una specie protetta, viene cacciato senza pietà. Il Parco Nazionale Torres del Paine è una delle poche aree dove può trovare un ambiente incontaminato, dove può catturare le sue prede indisturbato e crescere i suoi piccoli. Per la sua preda, salvarsi vuol dire non abbassare la guardia. Il puma detiene il potere della vita e della morte. Ma anche per questo esperto predatore, sopravvivere è una vera sfida. Puma Nairobi, la capitale del Kenya, è una combinazione di elementi opposti. Questa metropoli, con 3 milioni di abitanti, è fra le più moderne città del continente africano. Ma nello stesso tempo, i confini con il Parco Nazionale di Nairobi iniziano praticamente alla periferia della città. Questo è il limite dove civiltà e natura selvaggia si incontrano. Uomini e animali selvatici condividono le loro vite in questa grande città. Quando la città incontra la savana, il conflitto è inevitabile. I ranger del parco devono proteggere più di 3 milioni di persone dagli animali. Si tratta forse di un presagio del futuro in Africa. La selvaggia Nairobi Grazie a tutti. Appижу Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.